Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video, oggi video haul, vi voglio far vedere che cosa ho comprato di bello oggi. Prima di iniziare vi ricordo le salute cose. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere nessun video. Commentate, condividete e seguimi anche nel mio Instagram, piro, strattino basso, live e andate a visitare anche il mio nuovo sito internet, vi metto il link qui sotto in descrizione. Vorrei iniziare questo video ringraziando di cuore una mia collega youtuber perché ACIDRAIN, ciao tesoro, grazie, 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 perché? Perché finalmente oggi sono andato a vedere il nuovo negozio TEDY, TEDY che si trova qua vicino a casa mia, stato appunto consigliato da ACIDRAIN e ho detto andiamo a vedere che cosa c'è. Sono sincero, ho fatto pochi acquisti perché ero di fretta, però se avevo più tempo avrei letteralmente sballeggiato nel negozio. Vi parlo velocemente che cosa offre TEDY. TEDY offre una vasta scelta di articoli da casalinghi, componenti per smartphone, quindi cover, cavi, cavetti, batterie, pile, tanta cancelleria, tanta roba per creazioni bijou fai da te. Se voi siete degli amanti di gioielli per creare gioielli o bracciali o qualche altra cosa vi abbellisca, vi consiglio TEDY perché oltre a vedere che i prezzi sono letteralmente vantaggiosi e bellissimi, bellissimi, sì si può dire che i prezzi sono bellissimi perché io ho dei prezzi così bassi non li ho mai visti per dei componenti di bigiotteria per creare appunto gioielli. C'erano per esempio delle perline, c'erano addirittura, vi ricordate i vecchi ciucci che si usavano negli anni 90? Ecco c'erano i vecchi ciucci piccoli in una confezione se non sbaglio da 50 costava sui 1 euro, 1 euro e 50 ma veramente c'è tanta tanta roba ragazzi quindi se voi se anche voi vicino a casa avete un TEDY andate a visitarlo. Credevo sinceramente che il TEDY fosse come il Tiger però è letteralmente diverso, però non mi dispiace quindi ho detto proviamo appunto TEDY com'è e ho fatto appunto degli acquisti non tanti. Ecco qua la mia borsetta di TEDY e vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Ho qualche discontri ma tanto i prezzi sono scritti anche sulla confezione. Ho comprato queste cinque pendenti a forma di piuma perché voglio metterli come pendente per uno dei miei orecchini. Non ho trovato gli orecchini, cioè proprio non ho trovato gli orecchini da TEDY, dovrò andare dai cinesi o da un'altra parte e metterò questi come pendenti. Cinque pendenti a forma di foglia a sole un euro. Poi ho comprato, ho comprato per la mia luna questa bellissima ciotolina in ceramica, così ci metto dentro la pappa del gatto, ciotolina in ceramica a soli un euro e settantacinque. molto molto simpatica, molto bella e così meno anche la mia gatta è contenta. E poi ragazzi ho comprato anche quattro assaggi strani bibite strane. Ve le faccio vedere velocemente perché non voglio spoilerare niente perché queste bibite le assaggerò nella mia rubrica di video assaggi. Guardate, ve le faccio vedere più velocemente. Queste lattine le ho pagate in euro luna e queste due bottigliette le ho pagate 65 centesimi luna. Non vi dico ancora niente cosa sono e cosa andrò ad assaggiare perché appunto se volete vedere questi video assaggi dovete guardare la mia rubrica di video assaggi che va in onda ogni sabato. Poi, finito Teddy, sono andato da H&M. Chi mi conosce bene che cosa ho comprato da H&M? Esatto, ho comprato ancora un paio di calzini, però stavolta li ho presi bianchi con le righe colorate molto belli e li ho pagati solamente 2,99 e questo era H&M. Poi sono andato da Zara. Zara, ho comprato questo profumo che è buonissimo. Il profumo si chiama Summer Collection di Zara e l'ho pagato 2,95 invece di 3,95. Sono 12,000 ml ed è veramente veramente buono. Piccolo prezzo per un grande profumo. e poi concludiamo con Tiger. Il Tiger, ormai sapete che Tiger è diventata la mia seconda casa e quindi ho detto andiamo a farci un giro al Tiger e vediamo che cosa è rimasto. devo dire che sono rimaste poche cose ancora a 50 centesimi, però le ho approfittate per tutti i prezzi. ho comprato queste stecche, queste tre stecche di cannella che le voglio regalare a mia mamma perché sono qualcosa di spettacolare. io adoro la cannella. Voi non sapete quanto è buona, quanto è afrodisiaca, parlandoci chiaro. Per me la cannella ha un odore sopraffino e queste le ho volute regalare, le ho comprate per regalare a mia mamma perché poi queste le erano messe in un vaso in modo che profumino la casa. quindi tre pezzi di cannella a soli 2 euro. Poi ho preso, cominciando adesso a far vedere la roba da 50 centesimi, ho comprato questi 9 timbrini con il coniglio, il topolino, un riccio, una lontra, uno scogliatto. questo mi sono scogliato, un verde, una lumacca e una talpa, mi pare che queste le abbia presi anche i silrein e li ho pagati 50 centesimi e poi ho preso, sempre a 50 centesimi, il caleidoscopio. chi di voi non conosce il caleidoscopio, questo bellissimo oggetto. Poi guardate dentro, non so se riesco a farvi vedere, vediamo se riesco a farvi vedere dentro ma non ci... vediamo eh, se ci riesco altrimenti facciamo una grande figura, ecco qua, vedete? poi guardate qua dentro, voi girate pian piano la manopola e qua si creano delle immagini. spero che abbiate riuscito a vedere però è veramente una figata e anche questo pagato 50 centesimi. poi, perché le cose non sono finite, poi mi sono comprato due caramelle, due pacchetti di caramelle a un euro, molto, molto easy, easy, easy. poi mi sono comprato questi che sono dei portacami, un kit per fare dei portacami personalizzati con delle foto, questi mi servono per un progetto e voglio aprire una parentesi. Sammy, se stai guardando questo video, uno di questo sarà per te perché farò una creazione per te e quando ci vedremo questo te lo regalo. e li ho pagati, scusate, mi pare che non ho lo scontrino, dove ho messo lo scontrino? dove ho messo lo scontrino? scusate, no, non so più dove ho messo lo scontrino ragazzi, scusate. queste le ho pagate, ora che mi viene in mente, un euro e ce ne sono dentro due... scusate, tre, tre, un euro, tre, un euro. e poi concludiamo con questo bellissimo astuccio porta tutti, porta tutto a forma di di lontra, guardate che bello, 50 centesimi anche questo l'ho pagato. è bellissimo, bellissimo capiente, molto morbidoso, molto morbidoso, guardate che bello. 50 centesimi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. e poi dovrei aver finito. eh sì, ho finito, ho finito questi miei acquisti ragazzi, questo era il mio video, spero che vi sia piaciuto. comunque, come sempre, se vi piace, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like. i soliti contatti ve li ho già detti, iscrivetevi al mio canale, seguitemi in instagram e guardate il mio sito internet. vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. ciao! ciao